C'è un problema, il problema è che lei non ce l'ha, quindi siamo rimaste con le mani nel culo Con le mani nel culo, benissimo Io ti posso dire una cosa, scaricarlo non ci vuole niente, letteralmente ci vuole pochissimo Non ci vuole veramente un cacchio, ci vuole pochissimo perché io l'ho scaricato in tre secondi Giocate The Past Within insieme, l'abbiamo già giocato, è stato il secondo gioco che abbiamo fatto insieme Lo trovi qua, aspetta, ti dico dove lo trovo, non lo trovi qua, ma lo trovi qua Su Youtube? Sì, sul canale Yugali Twitch, è difficile Allora, allora, aspetta A me chiedono fate dei baby yellow Ma non è multiplayer Vai su baby yellow raga Ma fra l'altro non è multiplayer, Yugali gioca e Babba fa gli esercizi d'inglese Dai, ma perché dovete trattarmi male? Ma perché? Io non mi merito di essere trattata così Possiamo fare gli esercizi d'inglese insieme Non si sa quel gioco dove ci sono gli esercizi Non era un gioco, era topolino Magic English Possiamo fare Magic English insieme Ciao Silvia Giocate a Way Out No, Way Out No, Way Out, esatto Io ho già giocato e lei lo deve giocare con Tiziano E poi io stasera lo insulterò quindi Esatto, fidatevi che è un bello spettacolo vedere Babba e Tiziano Che giocheranno a Way Out Io sarò lì con i popcorn Fu così che finimmo a fare duoling Alla fine secondo me ci ammazziamo le botte, te lo dico io Perché su come si chiama abbiamo Cioè non è che abbiamo litigato però ci urlavamo contro le parole Eh ma quello è il bello di questa cosa Dell'amore Eh sì, è il bello di giocare questa roba Che tu lo giochi con Come Tiziano non esiste? Tiziano esiste Il desiderio di urlarti contro Aspetta, io sto facendo le cose nel frattempo Aspetta, stai ferma Io sto facendo anche io delle cose Ti volevo regalare il gioco Sei stupida, me lo sto comprando da sola Che stai facendo? Ma infatti a me dice Sembra che si sia verificato un errore Ti abbiamo chiuso Io la banno Io la banno Aspetta che si è verificato vero un errore Oh no Abbiamo rotto tutto? Ciao i cintoc Non può essere completata Perché ne hai un'altra in sospetto Ma che c... Raga abbiamo rotto Steam Vedete? È questo che succede Quando uno si vuole regalare Cioè vedi? Mi ha impedito di farti un regalo No Mi hanno... Me l'hanno regalare Sei scema? Ecco perché non potevo andare avanti Ah e allora va bene Bravi Lux Grazie mille per lei Per il regalo Thank you Ma infatti Me lo stavo comprando Mi dava errore Non capisco Bravi Fatto Ah Sì grazie Ma lo devi scaricare tutto Grazie Luxina Ma devi scaricare tutto A colpi di faccia Tre secondi Voglio fare una cosa Opzioni Ma l'audio si sente da voi? No Ma dai che è dal gioco Eh io sto cercando di far sentire l'audio Ma io non sento un cacchio Ciao Delfino Ciao Kiko Eh vediamo Eh ma tutti quanti mi dicono che è strabello Vediamo perché con Katia non lo... Allora prima di tutto tu stai molto calma Che io già sto facendo online play mode Riduci la schermata di gioco The game is safe Ah vero Ah vero Save Sì salva automaticamente Eh vabbè Ci se lo trova C'è un problema Qual è il problema? Eh io Ho un... Hai rotto Mi dai Mi dai Eh fai una cosa Eh parla da sola per Che hai fatto? Hai la cacarella? No non devo andare a cacare Katia Ah ok Devi fare altro Non Io chiedo Non si sa come Non faccio questa cosa No Che sta a fare? Ma che è successo? Sto spingendo Katia un attimo Ma stai che ti stai cagando sul posto? Io Katia li parla sempre da sola Ehi non è vero Non è vero che parla C'ha un sacco di amichi Sì Io sono Ah fra l'altro io mi posso scegliere anche il Pipo Me lo scelgo verde Oh E io arangione Ok create Ok Io sto cambiando lo sfondo su TikTok E' un parto? Sì è abbastanza un parto L'ha quasi fatta Ma raga il problema è che Press enter key Ah questa è la lobby Fatto E' ok ma questa è la lobby Però no Press enter key E quella è Ah ritorno Finish game Return Ma come funziona Ma come funziona? Ma non ha capito Genesi si imbocca al lupo E' tosta però spero che tu ce la possa fare perché è fichissimo Veramente è fichissimo Dieci figli Ma che sono tutti sti figli all'improvviso Ma devi invitarla mi sa Che? Sono pronta? Sei pronta? Sei dentro? Ho fatto tutto Madonna TikTok è sistemato in 2,5 Eh brava Oh no questo gioco Tu entrami dentro Io ti entro Devi invitare Babba Aspetta Online play mod Yes Stop Eh freehand Ok Yucali Eh Eh aspetta io voglio l'arangione C'è l'arangione For both Questo Ma è un arangione smorto Pare che mi so cagata addosso Ma fra l'altro io non posso cambiare Il modo per saltare Perché io salto con was Eccoti Sei tu Tiziano Mi ha scritto in live Non gridare Ma vaffanculo Ma quello c'ha Apex che pompa di continuo sotto Che mi sento sto gioco sotto Allora Tiziano Allora Fatti i cazzi tuoi Che io sta cosa Che tu scrivi in chat Dici a non gridare Ehi Allora Però qualcuno l'ha mai fatto No lo fa sempre Lo fa tutto ciò Però io non mi Il mio amico me lo cago Scusami Eh Bravo Ma io non lo so Start game Ma io continuo a non sentire Ma tu la senti la musica? Io sì Io dal gioco la sento E perché io non la sento la musica? Io non la sento Amore verso Tiziano? No Aspetta raga Aspetta raga Aspetta raga Fermi Non sento la musica Mi dai la musica? Ha rotto il gioco? Fa peggio bellotta Ma adesso la senti A casa a casa Allora Allora Ma è un insulto Ti ho detto solo Che hai più tempo Bellotta a casa Non è vero Che ce l'ho Farsi alterne Ma io non Non sento musica Perché non sento la musica? Se vuoi di tipo Eh ce l'ho Guarda lì Ma è strano Perché non Input Output Input Forse Brows Spade Ciao Pino Ciao Giovi Ciao Mara Io sto Il tempo che lei fa questa cosa Io saluto Sì Ciao Molpone Pippi Ciao Franco Ciao Giorgia No no Non funziona Ciao Giulia Ciao Franco Ciao Manuele Ciao Ferdinando Ciao Marisa Grande Fabio Raga ma a me non finisce Aspetta Cioè non si sente Aspetta lo riavvio eh Ah Connection Lost Oh Mo si sente? Ciao Lopi Non lo so Si sente? Sì adesso Hai chiesto il permesso per rompere il cazzo in live, non me l'hai chiesto, non me l'hai chiesto, io lo sento, lo sento, adesso lo sentite, aspetta che lo devo far sentire anche su TikTok, amici si sente? Perché hai tutte queste fonti audio tutte? Ma che cazzo ne so, non mi chiede. e il mio colore è il verde creo ora non si sente babba come non si sente babba? è impossibile c'ha un computer non lo sa usare ma si sente non è vero l'altro giorno mi fa Eli non funzionava la live VR si me ne sono accorta hai provato a staccare questo si era quello ciao marica funzionava però domani funzionerà tutto vabbè noi ce l'abbiamo si sente tutto siamo pronte? entra tu da me no io ci sono già dentro no e allora che cazzo no l'ho risolto io lei me l'ha detto dopo perché io lo sapevo l'ho detto dopo ma si sente tutto si sente bassa ogni tanto no 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 ma ti la devi dire altissimo allora dove è l'arangia unica? si me lo dovete ricordare amici Yukari l'ha messo pubblico eccomi come si fa qua? come si muove? start game easy come salti? eh non lo so io ho cliccato dei tasti a casa ma non è vero l'ho detto io oh ma abbiamo un livello da fare siamo due pirulicchi che devono fare le cose vedi è tipo bread and fred però più sì ma se ti levi allora era così scoddato che tu dovevi saltare sopra la pirri non è vero vedi cazzo è il culo sì che dà eh fatto vabbè allungamelo ah lungo è sempre guarda lì mo come lo prendiamo questo coso ah prendila tu prendila tu asco salta asco asco arrivo dobbiamo saltare contemporaneamente via vabbè ma i livelli veramente facili troppo come sei entrata? con su non si sente no si sente tutto raga si dovrebbe sentire tutto proprio livello 1 completato vabbè siamo troppo forti vai col secondo è troppo troppo facile allora ok che dobbiamo fare qua ah di là uno di qua due persone vai prendila cosa poi spingiamo di qua flashback di bread and fred questo è un attimo no ma questo è solo l'inizio spingimelo ok vabbè ma è troppo facile questa cosa io spingo e tu vai però no come vado io è lì bastarda ma che stronza è qui salvami ma sei una scessa ma io come faccio? pensavo di non poter tornare mi ho detto perfetto adesso è un'ingulata ma scusami abbiamo buggato il gioco io lo baggo sempre vai spingimi ah no aspetta salta salta dall'altra parte ah si hai ragione Dio santo mio ma come si fa? ah beh easy era per creare un po' di tensione l'abbiamo persi 34 no era per creare un po' di tensione ma quale tensione? non ho nessuna tensione nel mio corpo è la tensione la tensione rabbia tu sei bellissima che è sta cosa? allora Katia ferma si chi è? ah vedi vedi possiamo volare? si tu salta oh Katia adesso vai brava aspetta che te lo allungo ah si brava ok e io scendo mi porto questo via e ti porti lo zero e dove faccio? dove vado? suspense ma si ma io vi creo la suspense quella non lei non capisce aspetta ah ok vai ma io ho un problema di fonti no ne hai tre ma ce ne ho ne ho no e non ci entro in mezzo perché li ho sbattuti ah no no forse li posso sbattere ah sbattili oddio oddio non ho sbagliato sbattili perché? perché li dovevo separare forse no aspetta forse no Katia hai sbagliato non è vero non ho sbagliato se l'ho fatto bene o no ho sbagliato aspetta hai sbagliato ma vabbè vai vai passa vabbè hai rimediato il tuo errore ma vabbè passa che c'è guarda là però vabbè ma io ho usato il cervello della mente c'è mi lascia stare che io sono già fisica ma è hai il quattro aspetta ma quanti livelli sono che si potrebbe fare un prono? non lo so mica non li ho contate easy raga ma quella non si fida di me eh madonna portami in braccio vai vai ma ti faccio vedere che qua risolviamo tutto in pochissimi ok staglia è lì è lì sei tu no perché sei scesa? e che ne so mi ha spinto via lucrina aspetta ah ma scusami no ho sbagliato eh ma come mi entro ma te lo dovevo tenere giù no è giusto è giusto io non posso uscire sei dall'altra parte dall'altra parte del due io non posso andare da nessun'altra parte di qua di qua ferma dai dai a destra dove a destra no di qua adesso a destra ah i i oh cadia stai sbattendo la testa vai ce l'abbiamo fatta non so come però ce l'abbiamo fatta perché io sono intelligente allora tu sali eh no io salgo insieme a te in questa live mi sento sempre più intelligente io ma quando vai Ma io sono intelligente, dai, si perde Marika, siamo con Babba Lucy Mi ricorda, siamo entrambi live No, Human Fall Flat è ancora più difficile No, Human Fall Flat è impossibile, me lo ricordo Adesso è proprio easy Allora, go together Go together No, questo è tipo Brad and Fred Io ti dico Scusa, mi vuole a tempo Mentre questo Madonna, quanti livelli ci sono I caschettini Va bene, retro game, vai Mi piace, andiamo di questo Ciao Ale Vai, vai, vai Che devo fare, Ellie No, Katia, questa è una cosa No, Katia Io mi voglio aranciare i tuoi nuovi verdi Eh, ma dobbiamo giocare a Tetris Sì, ho già sbagliato Mettimelo in mezzo, mettimelo in mezzo Vai, 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 sono bravissima a Tetris Come si, come l'hai girato? E questo dobbiamo fare per il resto della vita Con la spazio Con la spazio Vai, vai, vai Ma sì, ma mettilo tri Vai, infilamelo Vado Vabbè, ma troppo semplice, eh Ma che cosa Non ho capito Devi solo giocarlo con le persone giuste No, aspetta Mi appoggio, Katia Io mi metto Qua Perché credo che questo sia un posto giusto dove mettersi Mi metto No, io mi infilo No, perché lì Aspetta Mi metto qua Benissimo Qui, questo buco è mio Poi È bellissimo Sì, lo No Sì, ma mettiti a spe Ok, questo Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho È lì Aspetta Io sono vinto i mondiali di Tetris Nel 99 Ma la smetti di dire cazzate È vero No, giralo Giralo Gì Ma perché lo devo gir... Ah, vero, perché faceva due Io non ho vinto i mondiali di Tetris Si vede Brava Però Mettilo dentro di qua Bra Mettilo dentro Io lo metto dentro Quando lo dico io È difficile parlare E dire frasi di senso congiù Perché un gioco parlo Mettilo lì Bravissima Messo Mettilo spiaccicato da due Spiaccicato qua Ok 10 Me lo infilo qui Vabbè, ma siamo... Ormai abbiamo finito tutti i livelli di Tetris Ma abbiamo finito Eh, ma questo dove cacchio lo metto? Qua Perfetto E fin qui ci siamo Ma perché i miei pezzi fanno robe strane? Ok Manca l'ultimo, Ellie Manca l'ultimo Ok Poi abbiamo finito tutti i livelli di questa cosa E non voglio mai più vedere Tetris Mio Vabbè, però se non ti muovi Ma come faccio? Ma perché vuole... Vedi? Ecco qui Era easy No, non ho quattro livelli di Tetris Altro che giochi io Sono quattro livelli di Tetris E questo è il grande retro game Sì, no, posso dire che è una cagata Facciamo altro No, me l'ho messo forte Vai Facciamo two players Che siamo due Quindi va bene la due A giocare a due Dieci livelli Madonna Allora, cosa è? Minchia Ah, no Tu tocchi Tocca questo Ah, no Vai, vai Bravissima E io tocco questo Così puoi salire anche tu Benissimo Ok, dice Vabbè, ma questo è per persone intelligenti Ah, vedi? Minchione Lala Io non so cosa accende cosa Eh, tu Allora, tocca Toccanne un Anna Si è cazzo due volte Allora, ascoltami Uno Due Ma fammi andare Tre Quattro Ok, ho capito Vai, allora vai Allora, io vado di qua Poi tu mi dici Due Uno Ah, 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 ah Ah, 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 ah Due Uno Tre Due Uno Uh Madonna santa È difficilissimo Che merda Su livelli Veramente Guarda È morto Che è Vai, cadia Testa Ah Dai, ma sono morti Siamo morte Toccamì La favola Toccamì Il pulsante Sì, ma muoio sempre io Però Non è giusto Perché Ma perché Il verde è scarso, raga Secondo me No, non è vero Quotato Vai Allora, riprovo io Vai Tre Due Via Tre Vabbè, già fatto Ok Ok Tre Due Uno Ok Vai Passa No, no, grazie per il prime Benvenuto alla Votile Cup No, Pantera Non l'abbiamo mai giocata Allora, possiamo Posso Tu devi andare veloce No, salta tu Al centro Sei pesante Ti hai mangiato un sacco St'estate Allora, faccio così Allora, tu mettiti un po' più a destra Un po' più a destra Ma non serve Per questo Anche te Ed è Bravissima Adesso salta Ehi, è proprio complicata C'è tutto un suo studio mentale Di complicazione No, è che io Sono diventata enorme Ehi, sono ingrassato Guarda lì Ti posso schiacciare? Cosa succede a mangiare tutto Ma guarda come sei piccolo Sei piccolissima Allora, io faccio la piccola Tu fai la grande Sì E passa E poi anche la verità Passa, vai E allora, prima di tutto Qua piccola Perché io sono quella piccola D'età Scusa Vai, sei andata No, Katia Mi sa che là vai tu Ah, no Perché tocco entrambi Vedi, vedi Io tengo ferma entrambi Quindi puoi passare Tieni premuto Tieni premuto Benito Neeee Katia, mi sa che ci t'andavi tu qua E a che serve quel pulsante Allora Al cardino Ah, mi fa lo scalino Katia, a me che sono piccola Ok, allora Aspetta No, 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 no Sì, ma prima Fammi passare No, non ti serve Mantieni a Katia Troppi Vai, premi Premimi quando vuoi No Premi Lascia premuto P-p-p-p-p Eccomi Vedi Ma che serviva quello grande, scusate Ah, per tenere tutti e due cliccati Per tenere tutti e due cliccati Madonna Servivo io Ma ho 34 cose Il prossimo anno ne fa 35 Allora, 35 vuol dire che comunque sono a metà della vita E per me è un grande acime Ma che metà? Perché vivi campi 60 anni Eh, vuoi mettere L'età media non è 60 Ma vai a caga Raga Ciao, Jeff Insultatela scrivendo Katia con la C Allora, basta con questa storia della C Io non mi chiamo C Salta mentre salto Salto No, aspetta Allora, no E non posso saltare se tu salti La smettete di chiamarmi così con la C Non vi conosco Ma perché non scrivete da me? Madonna Ma c'è del c'è Vedi? Ti si ritorce contro Così fare, bastarda Allora Se tu salti e io ti salto in testa Potremmo fare un salto doppio Salta mentre salto Eh, sì, salto Vai, salta tu Eh, ma non posso se tu stai Vai Ma scusami Ma se uno salta qua e l'altro Bravissima Sare Te l'ho detto poco ma Salta che io salto Non l'hai fatto? Eh no, non l'hai capito È che era Mo? Non l'ho capito Allora Tu vai Allora Tu devi saltare mentre io muoio Sei pronta? Mi piace questa cosa Vai Tre Due Nene Ah no, scusa Non ho comprato il tempo Hai Tre, due Nene Benene Ok Ok Va Katia ha il suo personaggio che si suicida tutto il tempo Perché che muore due volte Non muore una volta Vabbè ma è per godere doppio Ok Ah no, possiamo salire solo lì Ma devi andare via Ah no, 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 no Forse Ah Ok È piavro Io sono l'amica intelligente ragazzi Se volete il mio numero Tre, due, nove No, no Allora Io prima di tutto Ho l'intelligenza pure io Cos'è? Grazie D Forse dobbiamo fare Ah No Forse dobbiamo farlo entrambi Sulla stessa cosa Hai capito? Sì Hai meno Ma basta Questo Ma dobbiamo fare P Che hai fatto? È freccia Bravissima Allora P Minchia P P Meno No No Forse Aspetta Ma vaffan Devo iniziare io Aspetta Allora No Non è vero Era triangolo Meno No Meno Eh no È me freccia Allora Non l'ho capito È freccia Pi 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 Nananara Pi 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 Freccia in alto Freccia in alto Pi Pi È nonna Però Pi 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 Bravissima Pi 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 io ero lì ancora a fare pipì ma perchè lei ci dà il tempo capito ma perchè funziona meglio se ti dà il tempo non è vero Katia tutta una bandona ti stai inventando è buio ma beh 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 allora sali tu se faccio così e così è tutto buio e dobbiamo capire dove si va se stiamo insieme saliamo ferma tutto ah ferma vai salta dove sei andata io non posso andare da nessuna parte è lì è tutto sulle tue mani e dove arrivo non posso saltare da nessuna parte aspetta ritorno allora salta pure tu a sinistra sinistra ok perfetto poi ora qua salta salta va bene come cazzo sei ah perchè stiamo spingendo un muro ah ok va bene è lì è lì nonna ok va bene easy 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 il gioco si chiama Pico Park Pico Park vabbè abbiamo finito anche questo no manca il 4 Pico Park comunque abbiamo masterato questo gioco come se fosse nostro allora aspetta allora questo è ancora al buio allora dobbiamo capire questo è difficile allora Eli proviamo ad andare di qua salta uh allora non si va non si va là sappi che qui muori quindi non andare di là vai di qua aspetta 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 è possibile che bisogna stare nello spigolo come faccio a capire dove è lo spigolo perché ne devo ferma vabbè raga allora mo devo salire sali pure tu salimi in testa ah no spingiamo spingiamo spingi ah madonna benissimo ok bravissima mo dobbiamo salire quindi salta 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 ma perchè mi sei sempre addosso Katia è perchè mi piace la testa grazie Renzo scusami dove devo andare adesso ciao Michael thank you dove devo andare eh 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 ma dove dobbiamo andare di qua che ne so allora Eli ce l'ho ho il piano malefico vieni con me sali lì sopra secondo me lì sopra si vabbè un zone vai 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 ah l'ho capito no perchè qui c'è un muro qui c'è un muro eh non ho capito e allora scusa se salto da qua scaldato vai a sinistra si nonna no vieni qua adesso no sali su di me su di me su di te vai no c'è un muro proprio di quelli che si spingono quindi dobbiamo capire dove andare perchè qua non c'è un cacchio sei sicura che non dobbiamo andare a costa stiamo sicura che non dobbiamo andare tipo a destra ti ho provato ci ho capito scusami qui no pip pip ok eh Renzo non ti preoccupare magari si sblocca Eli prova a saltare su questi due mattoni ah quando te l'ho detto io no ma te l'ho detto tre provate tutto a sinistra no perchè tutto a sinistra c'è la roba che fa scendere quindi dobbiamo provare a vedere un attimo prova a vedere di qua se abbiamo dei fatti eh vedi ma lo sapevo si vabbè ma dov'è eh lo sapevo che tu non mi ascolti mai ma non è vero e mo ui porca ok 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 ma do ma son troppo professionale ah no non puoi andare tu devo venire per forza io qua ma ti vengo a prendere se non ti va niente allora ti preoccupare salta salta sei troppo pesante mi stai addosso tu salta salta sì sì ma mi devi tornare indietro ma io non ho capito dove andare ciao talin sopra c'è ba e l'ho capito eccomi dobbiamo andare insieme quindi salta come se ci fosse un blocco ok benissimo salta come se ci fosse un blocco benissimo eh vabbè vedi che lo dovevo spiegare io grazie eh io sono stata scientifica speriamo che si blocca Renzo beh dai questo fatto easy proprio easy 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 ma vogliono vedere altro sì sì allora last park ball retro ma questi sono quindi eh metti metti quello giù che ha lo sdrighinato lo sdrighinato quello quello sdrighinato sdrighinato sì gimmick gimmick madonna mia ho paura gimmick gimmick voglio capire che cacchio è che è sto coso abbiamo gli scudi no forse oh allora Eli tu ce l'hai dritto sopra io ce l'ho dritto tu ce l'hai dritto aspetta che io ce l'ho sempre dritto Katia ce l'hai dritto come me lo metto com'è il ritardo non capisco perché il ritardo eh no ah però se mi mori no no non funziona così Katia no non funziona così guarda volevo approfittare dell'agenzia morte è che volevo capire se magari ti ho detto camminavo in testa hai capito e se facciamo più non funziona come funziona ma lo scudo no come fai provo a morire io devi coprire tu lei una brutta stronza ecco vabbè un lasso ecco ma adesso tu mi devi coprire no si vai vai cammina dritto 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 io ti corro appresso sei pronta quando tu vuoi vai io l'ho capito però però devo saltare io l'ho capito come non devi saltare devo saltare per farti passare devi saltare tu devi tu devi starmi scusa ti giuro la ban tu devi starmi sotto si si ah mi devo mettere sotto il bab ok Katia la nostra posizione è sexy vai vai ah ok io sotto io sotto io sotto io sotto io sopra vai ok io sono sotto ah posso camminare io tranquilla Katia stai sotto vai su e adesso entri a vabbè ma era easy ci ha messo un po' di più giusto per fare no si Katia mettiti un po' di no mettiti vai no adesso adesso tu stai sopra però io non voglio no io non voglio stare sopra ma spariamo no no stiamo volando maronna è lì secondo me sbattiamo contro i muri e moriamo adesso questo è il momento in cui Katia mi bloccherà mentre io no no spingimi prendi bisogna farlo prima ok dobbiamo muovere è lì era fuoco era lava non lo sapevo era lava era lava ma perché l'hai toccato si che l'hai toccato scusami ma dai 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 Katia Maria le corda vai vai io te lo lascio dietro io mi appo Katia questo è perché mi metti le cose dietro io lo sapevo mai fidarsi di Katia dietro ma ci ho provato Katia sotto sì ma Katia dietro no vado torno torno di qua metto dietro tranquilla non vuoi starmi dietro stai davanti è che così almeno hai probabilità di manovra probabilità di manovra io sto cercando di infaticare anche per te vai spingi e prendi la chiave dietro ho capito però è troppo preciso questo gioco no vabbè c'è un po' di disagio posso dire posso dire io mi metto qua però anche tu eh dicevi ah allora è che non ero pronta sì certo dicono tutti così ma guarda qui va è che io ce l'ho più lungo e non ce l'ho dura aspetta scusa adesso so mettermi raga pronostico secondo voi in quanto tempo ce la facciamo a fare così secondo me questo livello qui ci metterà un po' un'ora solo questo potevamo iniziare con questo gioco Katia dovevamo provare con questo prima poi dopo andavamo a finire l'altro allora vai spingi prendi la chiave ok minchione pip pip benissimo ma basta ma perché usi pip per salire e per scendere perché mi sento meglio pip c'ho la chiave perché c'ho la chiave ok perché ce l'ho io la chiave Katia non ce l'ha duro ha detto lei ce l'ho durissimo e l'ho fatto vedere anche quindi adesso non mi potete più dire niente sono io la master che cosa è questa roba 17,93 no cosa vuol dire ahhh deve essere un numero katia 9,9,18 16 16 poi secondo me la settimana prossima siete ancora qui mio non ho capito bah bisogna fare quello che c'è in mezzo come numero no non lo so 4,3 deve essere inferiore a 0,080 e l'ho detto raga ma mai abbiamo perso no aspetta no perché deve essere inferiore a 0,080 16 ferma,ferma deve essere inferiore inferiore a quale? dovete bloccare la somma deve essere no e non ho provato a cliccare dovete bloccare la somma deve essere minore del numero in mezzo e maggiore di quello a destra minore del numero in mezzo a me quindi è giusta? no 16 15 6 Katia che stai facendo? 3 qua 2 sto mettendo i numeri più piccoli Katia Katia porca troia allora ascolti allora la matematica ascoltati è un'opinione mia deve il tuo 6 si si vede che ha fatto latino ma non faceva matematica allora quindi va in mezzo allora dei numeri nostri quali sono i nostri? ah questi o dobbiamo farlo quello a metà oppure la somma però essendo che sopra c'è scritto che il numero al centro deve essere maggiore di quella a sinistra e minore di quella a destra vedi che c'è scritto maggiore e minore ah deve essere minore di uno Katia ha fatto il classico non ho fatto il classico ho fatto lo scientifico lei ha fatto lo scientifico come me dobbiamo schiacciare nello stesso momento pip oh no numeri no il numero è troppo ma non sto capendo ha detto pipottona meno di uno quindi per me e lo so che deve essere meno di uno pip vedi dobbiamo cliccare però insieme da 010 a 070 ma era giusto ho capito mi era fermo a 0066 dovete bloccare i numeri in modo tale che somma dei numeri deve essere maggiore di quello a destra ma minore di quello a sinistra grazie che vuol dire ma che cazzo vuol dire che vuol dire ma dio santo eh allora la matematica testa io però l'ho cliccato chi lo clicca è meno io sto cliccando eh guarda che sto continuando no amici potete scrivermi quello che vuole ah riproviamo insieme mettiamola a meno 70 vai 70 60 60 vabbè più o meno dai eravamo quasi no non erano 84 vabbè ma 84 e 70 sono vicini 14 numeri vabbè come 14 pip e vedi è 11 cosa la somma dei vostri numeri deve essere compresa da 0 e 0.8 senza farlo sbarrare 3 2 wow no cacchio allora fermi i vostri contatori non devono arrivare a 0 e su questo ci siamo 3 2 perché lei fa pip lo fa tardi pip chi è il adesso cosa voleva dire minore e maggiore no no però va bene va bene lo stesso che i nostri numeri dovevano fare la somma vabbè dai l'importante io ne levo il follo me ne levo il follo mi bannate dal canale di Katia c'è un moderatore da Katia vabbè però io non ho capito io mo l'ho capito ma l'importante è capirlo dopo minchia raga la matematica c'è no allora questa non era matematica era si che cos era capi capi capito allora devo diventare piccolissima forse per passare anche io buongiorno buongiorno caffè grandì no allora io divento gigante piccola 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 saltami in testa eh l'hai capito ah questo si è la matematica eh ma perché io sono più meccanica che scientifica ah ma ciao Sam che matematica capito vai Amonisco sta stai cornuzzo eh pronto non mi entro nel buco ma secondo me perché sei troppo grande sono troppo piccolo vai e mo come no ah 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 Katia è malata capisce dopo eh sì perché ho la febbre ciao Lollo ciao Lollo l'importante è farlo bravi il gioco si chiama l'illuminazione divina ma perché Katia non ce l'ha fatto il gioco si chiama spingi ecco il gioco sper fermo che arrivo mi stai facendo il gioco si chiama Pico Park ah brava bravissima adesso possiamo passare ciao Zero non mi capi Katia non mi capi come andava con i compiti infili nel buco scusa stavo leggendo la chat allora dark chat o babbalusi eh perché non entrambi uno vuole godere con entrambi allora secondo me possiamo fare il go together che noi siamo esperte di bread and fred yes su twitch su twitch mi chiamo yukali siamo stimati insieme a babbalusi siamo entrambe in live eh vabbè ma questo è facile sì abbiamo giocato a bread and fred ma sì ma se giochi con un con una persona del genere guarda che mi si allunga snaggete uè aspetta ti tiro io ci penso io sì ma se mi aspettassi ma non vai ferma la tua vita dipende da me Katia ma tu fammi andare dritto tirami vai guarda lì che bravevura eh che bravevura come a me non so più parlare in italiano manco l'inglese adesso no vabbè l'inglese mai saputo però l'italiano una volta lo sapevo è un'amicizia e il rischio ma perché quella mi mette le cose mi mette le cose di matematica poi dice che le sa vai eh ma mi tocchi prendi gli altri devo prendere la pazza aspetta ho sbagliato Katia poi dici che sono io io ho capito il gioco però però no io no alla fine conosci vabbè non l'ho capito saltiamo insieme uno cammina esatto allora vai devi essere dritta quando cammini ma se saldo prendo tempo beh salti perdi tempo lo vai a dire a qualcun altro salta dritto pronta? vai salto dritto vado vieni io vado allora ascoltami sì mamma sei bravissima a giocare lo so è che purtroppo è che io pure sono bravissima mi impedisce di dimostrare le mie skill al pub ma non è vero che siamo tutte e due bra siamo di ritorno siamo proprio di ritorno perché deve dirci ah scusa io la so fare la declinazione di rosa rose rose io pure la so fare rosa 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 credo pò non lo so rosa rosarum rosis rose rosa allora ascoltami vai dritta si ma quasi fermi due secondi ma che mi devo fermare non ci dobbiamo fermare e lei non lei non saltami dosso tu ma non può fai tu vai 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 no ma mo ti faccio vedere quanto è difficile la vita vedi vedi fai con la quarta declinazione che è che è che mi sto a starmi mi fa mi sta importunando ma rifacciamolo vedi io sono più brava a saltare ah ah poi chi è che succhiamelo Il senso è lì Bip È per il vero È troppo tardi ma comunque il bip è arrivato Se lo merita Allora io mo scendo Vai Scendimi No devo prendere la chiave Ah però no tirami su La prendo però tu devi scendere Ognuno ha le sue dosi Ma smetti di bipparmi Banca È lì Ma scusami Sei su tiktok e ho detto succhiamelo Poteva essere veramente Non vedo il problema Ma perché Cati anche tu Perché sei pesante Cati hai mangiato troppo Vai Vedi che Anna Chiara mi ha fatto la declinazione di fructus Madonna Anna Chiara non so come hai fatto Vai a destra Vai tu No vedi che è sbagliato Mo ti devo tirare io Mo ti faccio dire Allora devi saltare Sei pronta? Vai Salta Salta Tu sei più brava a tirare dai Sì sì Eh tiro tiro un sacco No vabbè Minchia però non si può dire Ehi scendimi Scendimi piano Scendimi Ok Mo Di qua Ah perché non funziona la twitch? Mo tiro qua e ti tiro No Toccati il piede Salta 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 Mannaggia Salta salta vai tirami però E ti tiro però non funziona Ah aspetta Uh Ciao melzine Ah non funziona bene twitch Ok ragazzi scusate Non funziona bene twitch No dice che a molte persone non funzionava bene twitch Ok Strano però Anche a voi twitch era morto Ah melzino me lo sta dicendo adesso Ah visto E allora si era fottuto Cosa dobbiamo fare con queste uno Aspetta E io che dobbiamo portare Non posso più Non posso più Vai spingiti tu Uh Guarda che allora Vedi che ho messo uno sull'altro Vai spingi E quello era giusto L'hai fatto bene Ascolta io devo Devi darmi il tempo di capire Mo fic fic Ok Mo che hai ficcato entrambi Metti di sopra No non è così Vai Non ti provo Sembra il tipo di gioco Mi ascolti Mi senti Non è vero Niente può terminare la nostra amicizia Vai che sto facendo Un Non è vero Uh Ma che Aspetta C'hai sull'orecchio No Vai scorri 3 2 Ascolta 3 2 Vai Allora Allora Io l'ho capito Come Bisogna metterli in testa Oh Hai capito No Così Dovete portare No Ah Spostalo Ve li dovete mettere in testa Mio Ok Adesso io spingo te Tu mettiti avanti Dove mi spingi quello Vai Mettiti avanti Prendilo al volo Al vo Come cazzo le spingere Katia Che faccio Non funziona Dammi tutti e due In testa a me Adesso io mi metto sopra di te Adesso sono cornuta Vai Vai Eeeh Cammino Che cazzo è un Un rinogeno Oddio mio Sta succedendo Ah Sei di me Ah Perché adesso abbiamo quattro Era giusto Vai prendi la chiave Ma che ce vuole Tutto risolto Risolto Poi dite che Sì ma sono ormai in avanti Ah scusa Non pensavo che si preso la chiave Stavo leggendo la chat Allora ragazzi Basta Posso dire che Posso dire che Siamo bravissime Vabbè ma secondo me Questo gioco lo completiamo oggi Katia Secondo me lo completiamo oggi Vai Time limit Vai Io penso che Come che culo Oh Pia le monete Mi sta babbando Sì è vero Ma è super mario Piglia le monete Piglia le monete Mi servi tu Mi servi Va Katia Toccami Vai Salto 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 Ok 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 Andiamo a prendere queste giù Ah tu le puoi prendere No ma non posso prendere Abbiamo 40 secondi Mannaggia Bubba Katia sopra di me Salto Eh come arrivo lì Ok Benissimo Prendo vai Vai che ce la facciamo Abbiamo ancora 30 secondi di tempo Abbiamo tutto il tempo del mondo Per poter finire Corriamo 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 Dai Ellie Ellie bravissime Prendo tutto io Easy No Apri la porta Ah Eccola Ellie Ellie corri Corri 10 secondi Corri Che giocoliere Eh Ma va brave Signori Incredibile Vai A time limit Tutti così col tempo Io già mi sto cacando sotto Sono tutti con il tempo Ho l'ansia Ok Allora Adesso dobbiamo capire cosa fare Se io premo tutti questi pulsanti A te che succede? Non lo so 4 3 2 9 Ah Mettiamo del tempo Va bene Ellie abbiamo 15 secondi Scappa scappa Scendido A destra A destra A destra A destra Vieni a destra Vieni a destra Giù 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 Corri Corri Non ce la voglio Entrami Ok Ok T'ha a posto Vabbè ma che è Che è questa ansia Troppa ansia Non abbiamo Katia mi stai davanti sempre ai Allora Qui dobbiamo riprendere i Perfetto Madonna santissima Io la vedo malissimo questa cosa No no prima quelli sotto fidati Eh prendiamo prima questi sotto Però abbiamo 30 secondi Ellie Ok Adesso dobbiamo ricongiungerci Entra Sopra Io so Sì no Ok va bene Ok 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 A tempo Sì a tempo Però dobbiamo andare dall'altro lato Vieni Ah ok Va bene La chiave Vai a prendere la chiave Benissimo Easy Easy Bella Gabri L'ansia È una cara Tocca cacata sotto Ok Vai livello 4 Livello 4 abbiamo finito Cioè Abbiamo finito questo gioco a tempo Al tempo mi mette veramente ansia però Abbiamo preso dei secondi Ma dobbiamo tornare indietro Ok tu puoi entrare No Ok Ellie io ti spingo questo giù Vai spostati un attimo Ok vai Ok Salimi sopra Vai Spostamelo giù Cazzo 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 Abbiamo perso troppo tempo per capirlo Abbiamo perso troppo tempo 9 8 7 6 Non ce la facciamo mai Non ce la faremo mai Giri No No Eh ma perché Ciao pirla Che puoi detta così pare Che sto fredda Aspetta aspetta Allora Vai 9 8 Saltami in testa Corri subito Buttamelo giù Ok ma secondo me non serve che lo butti giù Eh Come no Come no Forse sì No per forza No per forza Se non se devi salire per forza Sì 17 16 vai Saltami in testa poi dopo Spimbami Vai Ok Ti devo soltanto aiutare a salire fin là Poi dopo devi fare tutto tu No 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 Lì non c'è niente Non si insultano Eh ma tra tre secondi comunque erano pochi Eh Saltiamo entrambe Ma non Babba ti salutano da tiktok Credo Ciao Eh Dovevo andare Katia sempre qua Ah Aspetta è vero La rifacciamo Ritrai 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 Fallito Ciao No 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 Fallito Fallito Ciao Mariangela Ciao Vai saltami in testa Sping Vai Ma non c'è bisogno Sì perché io devo far salire fino a sopra No ma fa culo troppo tempo Allora tirami Vabbè Però la prossima volta possiamo tirare dopo Non premete i tasti Sì esatto Non perché devi tirare dopo Perché secondo me dobbiamo salire fino a sopra Non puoi salire se non tiro Ma sì invece Saltami Saltami Dobbiamo farlo precisissimo No no qua devi venire tu Eh capisci Qua non c'è niente da cliccare Bravissima Io ti devo portare fino a sopra Cioè la cosa è che Perché noi dobbiamo salire fino a sopra Ah lo so Non andarle appresso Salta direttamente Vai 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 Allora Pippi Pippi Vai Buttamelo giù Buttami il paniere Ok Ok E non penso che ci sia qualcosa altro Sì c'è altro Non credo Mo salta subito Spingite prima i cubi E poi recuperate il tempo Sì ma infatti secondo me Dobbiamo spingere prima i cubi Giù Ok Senti qua E mi fai salta Io Io ma tu mi dici Santo io Ma beh Mi chiedi Celebro Ma chi Ciao Ciao Beatrice Sì ma Devi essere la prima Allora devi essere la prima Che la porta sopra Poi mentre una prende la chiave L'altra schiaccia i bottoni Sì ma scegliamo Chi sta sopra E chi sta sotto Allora tu Tu stai sopra No non è cursato questo pico È bello Vai saltami sopra Buttamelo giù Poi io ti devo soltare Facciamo solo sopra Non premere Non premere Non pre Ormai era andata Fammi andare Va bene Allora sali su Ah io l'ho capito Perché se tu clicchi i pulsanti Nel brava Bravissima Si fanno due cose in uno Esatto Desaparecito Capito Despacito Sì proprio quello Vai Ehm saltiamo Saltami in testa Prendi la chiave Perché vedi Peccato Vabbè vabbè Capito Vabbè vabbè Vedi che adesso stiamo capendo Comunque È l'ultima cosa che devi prendere I secondi Perfetto Quindi saltami in testa Va brava Ok spingimelo Va benissimo Saltami in testa Bravissima Spingi Ok Saltami in testa Gnene Ness Però scusa È troppo tempo A prescindere Secondo me a un certo punto Poi devi fartelo da sola Non c'è bisogno Di buttare giù i cubi Dopo il primo Ok Allora fai salire sopra Fammi scendere questo Salimi in testa Ok Ah spingitelo da sola Bra Vai Eli Vai Eli Vai Eli Vabbè Ma Lo so Volevamo fare le cose in amicizia Però l'amicizia in questo gioco Non era Invece era più facile Di quanto pensassi Era easy Veramente era easy Sì Ma perché noi abbiamo un cervello Così sviluppato Che vuole fare troppe cose Difficili Allora questo è offline Non mi interessa Push or jump Va Chi fa da sé Va in tre Che dobbiamo fare con questo Ah lo posso toccare io Grazie mille ultra per i due mesi Vai lo tocco io Portamelo tu Ok Saltami in testa Forse lo devi mettere al contrario Eh sì Come i due non fanno mezzo cervello Spingi Ok forse ce la faccio Va bene Benissimo Allora Aspetta Muovè capi che cacchio Dobbiamo Cioè tu dove sta a scopare Vabbè fallo godere Aspetta Ah Ok Mo Ah però possiamo spostarli Eh no ma questo mi cade Questo mi cade Questo mi cade Aspetta Aspetta Devo spingertelo di qua Non farlo cadere ancora Perché non ho capito Dove dobbiamo andare Sì ora lo aggiorno Ragazzi Detemi un secondo Ciao Dread Grazie mille per il ride Mi potete fare uno shout Siamo in live con Babalusi Stiamo cercando Di finire dei livelli Di Pico Park Stiamo sudando Fortiti Titti Silvestro Vai che ce la fai Ce la fa Stai calma Hai fallito Guardia Ma ti faccio la scala Vieni qua Fermo Ma perché hai spingito Troppo in là È giusto Io col carato Sai che secondo me Devi farla al lato opposto La scala Guardi Vabbè Specchiatela Specchiatela È uguale Raga È uscita Vabbè allora io vado No Ciao Wolfi Aspetta Potevamo rifare Vabbè rifacciamola un attimo Ora scendi e li sposti Non li posso spostare al lato opposto Ciao Wolfina Ciao Linda Basta che scende e si sposta Ah sì vedevo E non sapevo No non è vero Non si spostava Non crederi Portamelo indietro Sono delle persone false No non sanno Perché non sanno Non sapete Allora non sanno Di Di Eh Bentornato Non è vero ciambella 19 me Allora Fermo Se io Fai Io devi stare zitta Cioè io Zitta Eh però me lo devi mettere Spè Nel culo No Katia fa una cosa Soltata dall'altra parte Sì no Adesso te lo spingo un po' più dietro Perché Altrimenti non va bene Se non fa scala C'è un problema però Tu adesso come torni dall'altra parte Ma che cazzo devo fare con sto coso in testa Dai mettimelo Faccio io il blocco Vai mettimelo Vai No perché poi non possiamo salire L'altro è troppo alto Resenta Resenta Culo Resenta Grazie Chiamo Si chiama Questo gioco si chiama Ragazzi dovete squoricciare fortissimo su TikTok Se volete boostarci a bomba È vero Cuoricini È vero è vero Cuoricini potenti Fede Ciao pupa Vai me lo Fai Me lo Me lo squoricino Perfetto Squoricinami Arrivo eh mo I know Eh dobbiamo fare una scala No io le sto Ti devi levare Ma tu devi Ma perché tu me lo metti sto Vai Te lo metto Non è buono Non mi hai messo sto Ok Mo spingilo però Fai tutto tu Sperma così Lo spingo io Fai tutto tu Io non mi alzo qui Oh Metti un po' più avanti Un altro po' Un altro po' Benissimo Mo vai di là Beh Prima l'altro Prima l'altro Me lo so Ok Ah 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 No 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 Tu non lo devi spostare Tu devi aspettare che io spingo tutti e due Beh beh Ok Benissimo Adesso c'hai tutto Però bravissimi a fare delle scale eh Posso dire che comunque Minchia Beh Una buona scala parte da una buona base E io ci ho messo una buona base Eh Guarda lì C'è Eh Guarda lì Guarda che ingegnere Ah Non tocco Sì sì ultra Vabbè allora abbiamo sbagliato Vabbè chi sei Madonna Katia sei veramente Veramente Scarsa a spostare le cose Che c'è Non la chiamerò mai più a spostare le cose Ma guarda Se ti ho fatto una scala Che manco Uno scalino Che è ma Eh Mastroscala La chiamiamo Esatto Sono uno scalino Vai Fammi salire Anzi Sali tu Ti vedo più Aspetta Sei cogliono Sali tu e lei rimane Sto morendo di morte Sto morendo Salutant Ti si se questo è latino Comunque Bella Bravi Vedi che sappiamo Dobbiamo correre È lì Perché è a tempo Guarda che sei tu quella che è rimasta indietro Vai corri Salta No è veramente Ma vera Sì sì Ma un cacca a mia ci sono delle scale così belle È di Vai È gradisi su Nintendo No 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 Tu salta Brava Vai 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 Con la cazzimma Vai 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 Aspetta non so che cosa c'è dopo Calma aspetti Oh no Spingi però fino a un certo punto Ok prendilo Prendilo No abbiamo sbagliato forse No secondo me è giù Abbiamo sbagliato Abbiamo sbagliato Allora Allora Ascoltami Come facciamo Ascoltami Si deve spingere l'arancione Il penultimo arancione Bisogna spingere Il penul Che? Quello prima dell'ultimo Contate Perché abbiamo contato Uno Due Tre Tu spingi Caglio Io spingo i verdi però Posso spingere No Allora Perché Vabbè uno l'altro Io spingo questo Poi spingo questo Poi spingo questo Poi spingo questo Ah ah Che dove cazzo stai andando? Vai 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 tu vai tu vai tu Insieme Spingilo No Caggia 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 Che culo Va bene lo stesso Va bene lo stesso Che culo Applauso Un culo enorme Va bene qua Va bene Era tutto calcolato Calcolato Che culo immenso cosa Che era tutto calcolato Sapevamo cosa facevamo Aspettiamo fino a sopra Aspetta Se no non posso saltare io Katia non mi interessa Eh ma io Non mi interessa di te Katia Se muoio io Katia anche tu Katia anche tu Katia ti Vedi che anche Toto dice La penso Salta però Dimmelo Ciao Yuki Dovresti essere allenata Di sapere Quando io salto No perché Se non mi dici 3 2 1 Io che ne so Scusa Come era calcolato I numeri sono difficili Sì ma non quando Calcoliamo Queste cose Va bene Non puoi Premerli Allora Io amo La Oh che è successo Scusa Io amo La La simpatia di Katia E la sincerità Di Fabba Mi stai dicendo Che io Sono sincera Ma Basta C'è scritto Don Bush E l'hai fatto tu L'hai fatto Cretina Scusami Dai Andiamo separate Salto Su Però c'era scritto Don Bush E ma che volevo testare Babba deve dire PPP Non Non No io non lo voglio dire PPP Don Bush Vedi che ho detto PPP E mi sono confusa Vedi che poi Dicono di me Dicono di me Poi Dicono Che sono Una che non Pusha Ah Io 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 Non posso guardare la chat Perché Ah Vedi Ma ho saltato No 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 Dicono tutti così Allora Questa cosa Comunque non sai premere Premi bene Allora lo fa Lo volevo sentire anche io Bene La sensazione di premere un pulsante Sì sì Adesso Adesso Comunque questa Penso che questa mappa Durerà un po' No 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 Non vabbè Perché Siamo esperte di platform Dobbiamo Arrivare una in testa All'altra Mi sali in testa Ok Vai tu avanti No no vai tu Va bene Fatto Tu hai la chiave Eh che ci voleva Easy Date una medaglia A queste donne Eh perché ce la meritiamo Date queste donne Andate queste donne A la vedare Datemi qualcuno Ma come siete finiti Su Kat Mario Eh non lo so È vero sembra Kat Mario Sembra un po' Move and stop Ok Ok quindi dobbiamo camminare Dobbiamo essere coordinate Nel muoverci Sì Non saltare Nella vita Allora no Eli Questo ci tocca Quindi non secondo me Ma ferma Quando guarda Quando è che guarda Non guarda Sì sì No Hai mai visto Ti sei fatta guardare E come faccio A non guardare Non lo devo guardare È tipo quello di Super Mario Non lo devo guardare Devi stare ferma Sta dormendo Ah quindi dobbiamo andare Piano 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 Eli Zitta zitta Ho l'ansia Adesso mi è molto l'angoscia Zitta 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 Non devi farci sentire Non ti far sentire Ma era come muove la codina Sembra gigi Sì Ma probabilmente Ma perché mi passi Sempre la chiave Scusami Ma perché tu la prendi No forse ce l'ho io Ma Sembra che ce l'hai tu Ok Madonna Non ho mai sentito Tanta ansia In vita mia Sì 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 Fatto Vabbè Bastava non svegliarlo Sì era solo fare silenzio Io pensavo che fosse tipo Il boo di Super Mario Che non lo dovevi guardare Allora c'è un C'è blu e nero Nero Aspetta però Quando è rosso Però questo è verde È mio Sono mezzo Perché sono morta Che cazzo hai fatto Non lo so Perché hai saltato Non saltare su qualcosa Ti prego Eh tu sei morta però Ma perché Ma non lo so Ma allora Questo gioco con più giocatori Fa fine l'amicizia Eh ma infatti No Perché lo tocca Tu tocchi cose che Non Io sono il verde Lei è l'arancione Ma Non toccarlo Sì ma tu prima sei morta Toccando No Non è vero Oddio si sta affenando il verde Sta affenando Forse siamo a tempo Forse è a tempo No non è a tempo Dobbiamo stare fermi Quando il cos'è rosso Secondo No perché vedi Adesso non era rosso Io sono morta È semaforo Sì è che lei È un dei tre stella Ma non ce la fa Non ce la fa Cagliaro So ferma Ah vedi Siamo lì Easy Entrambe la stessa cosa Dai cosa ho fatto Due coglione Stavo per starnolire Eeeh Entrambe la stessa Eh ferma Devi stare fermissima È un due tre stella Lo so Ferma Alto le mani Ferma in alto Non ti muovere Muoviti solo Quando vedi il blu Vai 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 corri 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 Minchia qua moriamo È lì eri Moriamo 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 Corri 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 di più Corri di più Corri di più No Katia Come si fa Dobbiamo correre No ascoltami Sto sudando Veramente dal naso Sì vabbè vaffa Quando arriviamo lì Ci fermiamo un po' prima Eh sì E i jumpelini Iniziamo a fare quando diventa blu Va bene Sì Vai Cioè mo è Ok Ferma Ok Morta in volo Sì Così dovete Eh lo so Pi 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 Ok Vai Mo è fatta Ok Non abbiamo tempo Non abbiamo tempo Non abbiamo tempo Abbiamo tempo Abbiamo tempo Ferma Fermati Muovere Ma dobbiamo spingere Ciao diamante Spingimi 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 Madonna mia Non ce la faremo mai No non ce la facciamo Ce la faremo mai Vabbè ci fermiamo Ci fermiamo appena finisce Sì 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 Ha detto Pippe è fatta Fermati Ferma Sto sudando Ciao Chichio Sto sudando Fermi Fermi Sulle mani Sulle mani Via Vai 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 Corri 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 Saltami in testa Vai Saltami in testa Salta di là Spingimelo Eh Piano Non sei ferma Minchia Di Eva Sì Appena Vai No Ok E riesci da questo livello Subito Non ti preoccupi Signora Amici Voglio chiedere una cosa A quelle persone di TikTok Ma perché venite nella mia live A chiedere Eh ma puoi dire a Babbalusi Ma che sono l'assistente personale Cioè ma non è che sono La signora Ciao ragazzi Se avete qualcosa da chiedermi Da me Andate da lei Ma andate da lei Siamo due scrivere separate Vengono continuamente a dire Puoi dire a Babbalusi Se le piace il panino Con la mortadella Puoi scrivere a Babbalusi Se si ricorda di Giovanni 99 Puoi dire a Babbalusi Che la saluto da Mondragone Scriveteglielo voi Scusatemi Raga Vi meno Vi meno Allora venite Da me a scrivere Non da Katia Non è giusto No perché ieri Almeno uno mi ha chiesto Su Twitch Senti ma Katia Quanto sono Guardate Ma io che cazzo ne so Ma io che cazzo ne so Scusi Ma ci dite a Katia Quando si cambia le mutande Ma chiedetelo a lei Allora a parte il fatto Che non vengo a dire Quando mi cambio le mutande Qui allora Scusate Però dico Io mi ricordo che l'avete Chiedetelo a chiedere a lei Fate prima Chiedete direttamente a lei Ehi Damo un dragone Perché è vicino È lì Io l'avevo già capito Tu no No io non l'avevo capito Ciao amici Katia Eh sì dica Hai capito No Ah è Super Mario Sì sì Ah come te Vai tu Vado io Ah basta che lo guarda uno Ok io lo guardo Tu commina Commina Napoletana Sì sono di che È che io ho studiato All'Accademia del Fantasma Ah Io lo guardo Tu commina Non l'avevo visto Ma ti fai prendere dal verme Ma scusa Vai Vai tu vai tu vai tu vai tu Vado io Vado Vai tu mi fido Lo guardo io Eh guardo l'intensamento No Weven ma non serve Che capita Non ti preoccupare Con chi vai Io tu Attenzione che c'è il verme Vai tu vai tu che è verde Come che accende Quello mi ammazzo Aspetta ferma Guardalo Pip 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 Ok Lo guardo ancora Vai che ce la faccio Vai Ok Vediamo aiutare Super Mario Ah ma è vero Super Mario Ma aspetta Fammi entrare nel buco Ah No Katia Maria Amato signore Siamo morendo No morendo Avvocato Morendo è un parolone Sì sì Ti stavo uscendo la piantinata sotto il culo No morendo è un parolone Tu guarda Io guardo Ma dobbiamo coordinarci con il guardare Mi stavo mettendo meglio Vai 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 Allora adesso io scendo Guardo Tu scendi No Chiucali può chiedere a Babba che ore sono No No Le 19.42 Ah grazie Aspetta Adesso come si fa scusa Forse si passa da un altro lato Ah ma forse non è che si va dal tubo A me è chiuso Katia Eh ma forse si va dal tubo Dal tubo con 4 G Katia aspetta Eh io non posso più venire di là Sappilo No Non puoi entrare Che dite io le 19 devo uscire Eh ci sono le 19.42 Katia girati Noeli devi venire di qua Ah fidati di me Ho fatto Barbe Vai salta No Pip No Pip 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 Parola se no la smette con su cazzi Pip Ti giuro che vengono in live E gli faccio bannare il canale Katia Vai Che è che c'è 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 Su cazzi Pip Ciao Bianca Ma adesso vengono tutti quanti a dire Puoi chiedere a babba se Penso che si passi da sotto Eh uno sopra uno sotto Penso Sotto dove? Ciao Casey Buona cena Ma Pinchi non puoi venire con me a destra Non posso venire con te a destra Puoi Ok Dovete far prendere la chiave al fantasmino Dice Allora giriamoci Presa È vero Girati La prendo io Gliela rubo Ok ok Non guardare dietro Guardo io Tu gira Vai Ah papà Vai Vai Uh Minchia ho Il gioco in cui dovremmo essere I top player Madonna santa Che difficile E sapete perché degli ocari Quando giocherà a Fosmofobia War Mai Quando 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 i pianeti si allineranno Quando babba comincerà a fare Per essere sincera Sì Ah Mille sub Zuccatia Fosmofobia Eh Eh almeno Fosmofobia mille sub Siamo morte di batteria Eh 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 Ragazzi Gruppa sandali Eh eh Your require Eh lì Eh lì Nonca Ferma Abbiamo un'energia Dobbiamo consumare poca energia Fermati Arrivo Ma tu non cammini mai però Ho capito Ok Pip 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 No hai fatto troppi pip E non ho capito niente Stavo sentendo i pip Quante sigarette fuma Ma che sono Ah Hai camminato tu Ok Nico Grazie per il ride Benvenuti Siamo con la cendina You can Vai No Sono morta Attaccate il power È che io non vedo Scusa Ma cosa stai guardando Ok Cammina Piano Cammina piano per non far rumore La barra di su non pervenuta È che io mi divento Lei non guarda il gioco Katia non devi babbare però Non si guarda Lasciate mentre giochi Ciao mattia Allora Allora esce Sì vado avanti io Allora Vado avanti io Perché Non ti preoccupare Ho tutto sotto controllo Guarda Faccio pip Pip Et voilà Ho fatto tutto Che ci vuole Ah 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 Oh Che lei si muove Mentre io vado da verso di lei Capito Ecco qua Dove sono Ma Cos'è successo Non possiamo saltare Italo Se ci mettiamo uno sull'altro Eh no Sì Non lo so No 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 Scusa No 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 Camminare una sopra l'altra Possiamo provare No No perché qui non come saltiamo Allora vado prima io Sei pronta Ferma che vado prima io Ok Pip Pip Ok Perfetto Vai Hai consumato energie in volo Ciao vanè No È rip Non è pip È rip 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 Vai salta Ok Pia Vai No Aspetta che non mi sento convinta Quando tu ti senti convinta Salto salto Ok Vai Oh Allora Dobbiamo capire cosa fare con questa cosa Vabbè Waver Ma lascia stare Vieni Non ti preoccupare Dove devo venire Scusa Stavo leggendo la chat Ma leggo Per chi amici Scusa Ferma Stai ferma qua Stai ferma qua Se io ti salgo in testa Ma perché mi dici che Sembra un abbonente Vedi che tu puoi consumire energie Ma è giusto così Ma è giusto così Ok Vabbè Se tu mi ascoltazzi Che ne so io Ferma No ce la facciamo Tu spingi Ferma Vai Ellie no Devi prendere prima la chiave No 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 Se prendi la chiave Io muoio Se prendi la chiave Sei morta E spinalo giù Vai Vai E che se lo buttiamo giù Poi è un casino Ah no no Vai 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 Fai tu Dove sei babba Di Palermo Dovete chiedere a Katia Di dove sono Di Milano Esatto Madonna quanto non mi fido di Katia Quando cammina dritta 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 Scusa Stavo leggendo che Mi chiedono Quanta acqua Devo mettere nel ramen Io ti direi almeno un bicchiere Perché altrimenti il ramen Ma c'è scritto nel ramen Ma minchia Ma qualcuno legge le istruzioni Nelle cose No Io non le leggo Io lo metto Io veramente Poi fanno gli spavaldi Vengono in ciò e dicono Per fare questo gioco Si fa così Eh ma magari Non sanno fare il ramen Ma sanno giocare Obbria Eh ma non leggono le istruzioni No ma questo Aspetta Quello lì della cosa Ah facciamo ball Ma mi sa che dobbiamo finirlo Anche quello O no Forse sì Ah Che Ah però Questo è arancione A te non ti fa niente Forse dobbiamo far spaccare Ah con la palla Dobbiamo far spaccare La cosa La Bravissima Ok Parca troia Vai Aia Ah no Noeli Non ne dobbiamo sbagliare una È giusto È giusto Aia Ah ok Perché sennò si rifà la Ma poi diventa veloce Eh lo so Io salto Che vuoi da me Non dare la colpa a me Dall'altra parte Non dare la colpa a me per palle non mie Ah Chi sa palla era tua Capito però Capito ma è difficile Qui mettiamoci dietro No 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 Se mi sta attaccata io non riesco a saltare E allora metto qui Perché non riesco a guardare È che devo capire dove Vai Aspetta vai Ricominciamo Ok Ok Ma perché non salto Ma salte nel drone Ah 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 Minchia Vabbè quella come si fa Eh lo so Io ho saltato a cazzo Anticipatamente un sacco Con queste cose Questo non ce la facciamo a farlo Ve lo dico Salta adesso Io ho capito più o meno Solti Solti Eh brava che l'hai capito Allora Salta da te No Ma li rifacciamo dal capo Adesso so farlo Pira Vai Pi Madò Bravissime Campionesse delle chiavi Ho sbagliato Scusate Che hai fatto Ho fatto partire la canzone sbagliata No non devo andare avanti al cannone Perché sennò il cannone non sparava Sì sono verde io Allora Ciao Dark Vado 9-2 Vai È nostro Ah la palla Allora Eli Dobbiamo far girare la palla fino a giù Io Allora io spingo No no Tu spingi a destra Non per forza Sì Tiramela di là Sinistra Ma devi andare sul pulsante Eh non ho capito questo No Allora Sì deve andare sul pulsante Ok allora facciamola scendere Ok vai Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Che stai facendo? Che stai scoppando? Katia Vai Vai, scendi No, troppo veloce Non devi premere tanto, devi fare come ho fatto io Vedi il piedino, faccio piedino, piedino Io non posso lasciare il piedino Fai il piedino, 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 piedino Brava, brava Non posso fare il piedino Perché il mio scende, non sale Allora, piedino, 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 piedino funziona Benvenuti Sì, siamo su Twitch ragazzi Io Babalusi, lei Yucali Vai Benissimo Ok Nonna Nonna, va bene nonna, lasciami, lasciami, lasciami Fammi scendere giù Va bene, vado, vado veloce Ti prego, dimmi che tocca Yes Vabbè Che mascara comunque Sì Che masca alza une Allora Fammi Ok Allora Lorescara11 Dio santissimo Sei arrivato Non so se sei un maschio Una femmina Un divano Ma tu sei arrivato Sei su TikTok Che hai spammato 150 volte i messaggi Ho detto Non faccio l'assistente personale di Babba E sei venuto su Twitch A dirmi la stessa cosa Ma allora sei coglione Chi cazzo è questo Lorescara Ellie Chi cazzo è Ma io che cazzo le so Ma me la devi dire no Chi è Oh Questo voglio capire Lore puoi venire per favore sul canale Babba Lucy E fare la domanda Ma perché non vai da papà Scusami Ma perché sei venuto su Twitch da me A scriverlo Secondo me non so Non manco leggere Perché c'è scritto Babba Lucy Yucali Ma non capisco Ma scusami Ma dico io Ma non è complicato Amici Ma io mi voglio bene Però non è complicato E veramente sì Ah Non è complicato Noeli abbiamo sbagliato Mi sa Ma va Ma va Ok Eh sì Sono l'assistente virtuale Aspetta che forse Vabbè Donatello Anonymous Sta regalata alla Tappa Allora è Scarabba Che non Già così Vai prendi la palle Io le sto freddo alle palle Prendile Prendi Perché dobbiamo fare in modo Che nessuna palla cada Io copro questo lato È morta Io copro questo lato È morito da lei Oddio Ma dobbiamo spaccare tutti i muri Ma non ce la faremo mai Eh Kelly Ma che ne so Aspetta No 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 Aspetta Ce ne sono due Endasilla Che regala all'ora E' stata una Sop Ciao amici Vado Vai Tira 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 la palla Tira la palla Io ne prendo una E toccami una palla Vai Una palla Una palla Una ce l'abbiamo E mo ce la dobbiamo Tenere cara a cara Spigliola di qua Ho dimenticato di mettermi Fai tu Fai tu Fai tu Fai tu Ma si sta tornando in piede In piede Va Bisogna farla passare Grazie Endasilla Ma la cosa che mi fa ridere È che l'ora Troccala No porco Che l'ora il live non è venuto Ma capisci È questa la prima cosa E che dico io Come si fa ad essere moderatori Devi avere i capelli lunghi Gli occhi biondi Ma soprattutto una laurea In ingegneria biochimica Perché altrimenti Papa non ti fa moderatore È importantissimo Raga Cioè Se non hai una laurea In ingegneria biochimica Non puoi fare il moderatore Nei canali Cioè È il minimo È proprio la base Per diventare moderatori Mia mamma me lo diceva sempre Prenditi la laurea In ingegneria biochimica Perché se no Non puoi fare la moderatrice E poi E poi Come riscara come fa No aspetta Fermo Che mi sono fermata Mannari I lupi Guarda 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 Quanto deve essere lungo Ma fino a qui Deve arrivare Ciao Sofia Aspetta Eli Eli corri Eli No 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 Ti prego Eli Ce la fai Ce la fai Ce la fai Prendila 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 È l'unica vita Che abbiamo Prendila tu Prendila tu È l'unica vita Che abbiamo Ce l'abbiamo Anche a questo livello Più difficile Paola Si chiama Pico Park Un gioco No mo però L'abbiamo masterato Mo aspetta Con calma Vediamo un pochino Come fare No non ci conviene Giocarcele tutte Le palle Secondo me Non dobbiamo usarle tutte Vai Rifalo ripartire Ciao Super La facciamo ripartire Ciao Isma Vai Io adoro sta live Anche noi amiamo Anche noi vi amiamo E ci amiamo Tranne chi Chiede cose Che non dovrebbe chiedere Esatto A loro Diamo soltanto Un sacco di schiaffi E che famo Continuiamo così No No noi dovremmo buttare in avanti Almeno due palle Queste cose a terra Non ci servono Almeno due palle Sì sì Tienitele le cose a terra Perché c'è il rimbalzino Esatto E allora prendi un'altra palla Una palla a te Una palla a me Ok Va Io Vai tieni Prenditela tu Bravissima Oh bravissima Tienimi una palla Mantienimela in mano Ok Mantienimela in mano Non la voglio la tua palla Eh no Serve per favore Vai vai Prenditela adesso Portala in avanti Però era bella Come dire Vabbè Che co Era Oh oh Era uscita ma Potremmo rimanere ancora qui per molto No Maronna Cosa fai Aspetta Ma quella cosa ti ho sbloccato Eh Sbloccami il ricordo Aspetta Non farla passare Ok c'è Come non farla passare Deve passare Dall'altra parte Non farla passare Deve passare Di qua non deve passare Benissimo Vai Eh Eli ce l'abbiamo Possiamo passare Vaffanculo Palline Yes Ragazzi Ciao Chi Attenzione Applausi Siamo bravissime Ormai Sto coso Masterato Facciamola guard Vai Easy Easy Fatemi Cos'è Allora Eli Ah dobbiamo direzionare La cosa Ma come babba Troppo brava E io Lei ha fatto da supporto morale Con una Ah vedi Dobbiamo Sbattercela tra di noi Ok sei pronta Sbattimelo No Ah vai Sbink 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 Vai Vai Sbink Ok Ah no Ma vaffan Gango No Allora Eli mo Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho No 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 Mi da la palla iniziale Lei Io gli devo dare la palla iniziale Perché se no E che no Non sbatto troppo Perché se no Guarda quando io la alzo Lei ce l'ha bella No Me la devo tenere No me la devo tenere Sulla parte sinistra Ok Ok Eh no Allora facciamo una cosa Metà strada Ferma Eh brava 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 Bravissima Eh troppo tardi Però va bene Sì sì Si ne digli ugali Vai Questa è una buona idea M'chia Vai che ti aspetto Ti aspetto Provo con il solo Non mi aspetto No mica Dopo va La smettete Grazie Mary Per la prima Ma come È venuta Va Ah Uè Eh ma non puoi fare due Spingi di più Spingi di più Maravissima Oh 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 ma non salti Ah perché devo per forza saltare Devi per forza saltare Ok Vai Salta Ma dimmi quando sbatti Prendo io Ce l'ho No Se va troppo avanti poi a un certo punto È che mi va troppo sì Mi sgoccio dal capello Allora Vai Prendo io Prendo io Prendo io Spaccato Ma va Fanculo Prego Scusa Eh allora Questa abbiamo fatta L'abbiamo fatta entrambe Cioè voglio dire che comunque è una roba dentro Il controllo palla Hai visto il controllo palla di Katia Che brave brura Non date mai una palla a Katia Perché lei ha il controllo palla Io posso dire che comunque siamo state a fare un sacco di Oh sono le otto Katia fai quello a destra e abbiamo finito No finito no No ne mancano due E basta Vogliamo fare gli altri due Dai facciamo questi altri due Mancano solo questi due Abbiamo finito tutti i livelli del mondo Sanno solo due sì Press I per sparare I Come si fa a camminare mentre sparo Non passo Perché devo sparare io Scusami Cos'è? È lì? Eh? Pronto Che hai fatto? No Mi hai succhiato Cosa hai fatto? No Dove sono io? Mi hai ucciso? No Aspetta Ferma Ma non ho capito Ah Come hai fatto ad essere qui? Cioè io Cioè io allora Salta quando fai tre due uno Perché io secondo me Ecco vedi Ti posso Sparare qui Abbiamo capito il gioco Allora l'hai presa per sbaglio Quindi non è forte quello Quello è essere culi Ma perché? Ma perché fa le cose a casa? Perché tu non Guarda lì che sono proprio Un bilico tra santi e falsi dei Ah brava Cioè capito? Capito? Sì ci trasformiamo in proiettile Non bisogna spiegare Non bisogna spiegare Non ci spariamo Sono io E non avevo capito Scusate Gioca il gioco di ieri sera No il gioco di ieri sera Ragazzi l'ho finito Stasera si gioca a Way Out Vabbè lo vedi però Che non è fattibile Stavo pensando a Way Out Scusate Stai ferma No Io succhio te Vabbè Succhami Ah Spostami Lasciami Lasciami Basta Tu avanti Sì Aspetta Prova a succhiarmi Bravissima Ah Mo dobbiamo rimanere succhiate Allora Rimani succhiata Girati Io ce l'ho Verso di me Guarda me Guarda me No Succhiamo Dovevi rimanere succhiata Ho succhiato Dovevi rimanere succhiata Mannaggia Sentitelo senza immagini Darkness Non si guarda la live Se vuoi guardare la live Con tutte le immagini Altrimenti Che senso ha Vai saltami in testa Succhio succhio Mi stai stringendo No prendi Ok Sì sì Ah ok Eh puoi No 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 Sono io che devo succhiare Adesso Però tu vai via Quasi Però avevamo capito Vedi No Bisogna succhiare Entrambe No Perché se lo facciamo Entrambe è sbagliato Tu tirami Non ti preoccupare Camminami sulla testa Ho capito il livello Per una volta ogni tanto Prendimi Va Mo lasciami Succhio io Eh Guardami a me Guardami a me Mo Mo Tu stavi succhiando È giusto No Perché io prima ti stavo Non ho capito Perché Scusami Come abbiamo fatto Prima a camminare Attaccate Senza che io faccio Eh vedi Non devo fare niente Sì Ma io devo essere Tu devi far arrivare me Dall'altra parte Eh E poi glielo devo fare io No non ci dobbiamo Succhiare Succhiami tu Succhiami tu Vedete Io devo succhiarla E farla andare Poco poco Ok Mo la lascio Bravissima Vedete Che io avevo capito Fin dal principio Ma che avevi capito Avevo capito Fin dal principio Lei già sapeva È che tu non mi senti Lei già sapeva È che non mi senti Se non mi senti Succhiatevi a vicenda Non usate la parola succhiare Ok Allora Non si fa Vai Saltami No Sparami Sputami Sputami Dove mi spusi? Sputami Che cazzo ne so Dove è stata cazzo? Sputami di nuovo Su un muro Eh ma perché Da qua da per forza Lo ti devo sputare Ah no Da sotto Ma vai è Non va Non va Come la sputo? Cambia con la C Risucchia il quadro Che quadro Devo risucchia il Aspetta Tanto torna in vita Che mi pare Non può risucchiare Non abbiamo il risucchio adesso Abbiamo Ah Ah Vedi Easy Ma a me non me l'ha preso prima Se non fosse stato per me Ok Allora Mo Oh bei cazzi Ma questi cosi si ritornano No Ah no Eh li dovevamo spararci Vabbè siamo scemi In che senso? Sì perché Mo ti dico Allora Tu fai fare a me Spostati un secondo Ok vai Mo Aspetta Ecco qua Ah giusto Se tu mi spari Mo io Bravissima Bravissima Eh mo come arrivo lì Forse vuoi spararmi al mio Mentre ti giravi Ah devo spararti Ah vuoi prendermi adesso al volo Vai Volo dell'angelo Sei pronta? Vai Ellie io ci provo Prendimi Ti prego Sì Prendimi No troppo presto Bravissima Signore Tu sei l'arancione Sì No pubarista Ecco qua Fidati L'ultimo che hai fidato è morto Vero Però insomma Siamo arrivati a buon punto Allora Un'altra live E' un'altra cosa di succhiaggio Dieci Nove Oddio Cosa devo fare Non ho capito Saltami in testa Saltami in testa Due Uno Non era così Dieci Cosa dobbiamo fare? Che devo fare? Eccola Non ho capito Scusami però Vero fare dieci nove otto Aspetta Mi sono rotta le palle Perché Lorescara Non ha capito un cazzo Fino adesso Sta continuando a chiedere Puoi dire a Babalussi Se si ricorda Lorescara Aspetta Ma non mi dovevi succhiare E vabbè E' andato raga Poteva andare così O poteva andare con lì E' andato così E' lì mo? Quattro Tre Due Uno Pensami Cosa dovevo fare? Io l'ho capito Io l'ho capito Allora Vale Se hai capito Uno deve stare sopra Allora Quando c'è Il scadere del tempo Tu Devi salire sopra E io come faccio A scendere giù? Cioè nel senso Come faccio a premere il pulsante? Ah forse abbiamo pochi secondi E tu mi devi Esatto Però io come faccio a salire? Cioè per esempio Io posso salire Uno può salire in testa l'altro Vieni qua Sì Allora Io ti do questo Mi puoi succhiare al volo? Ah dici facendomi salire così Può stare pure di lato Ciao Atcat Vai 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 salta Vai Vedi? Grazie Daphne Grazie mille per il ride Benvenuti a tutti ragazzoni Siamo con la signorina Yucali In Leaves Stiamo giocando insieme a Pico Power Pico Power Pico Power Pico Power Fate una shotottina alla signorina Che cazzo fai? Ti tiro su e torri giù E qualcuno dovrà pur premerlo Il pulsante Capisci? Mo' Premo il pulsante Potrò tornare indietro Se mi misure adesso la pressione Esplode l'apparecchio Non misurare la mia di pressione Che signora mia Lasciamo perdere Benvenuti Allora Allora lasco Aspetta Gaggiment Sopra il pecco Non devi Eh prendi quello Bravissima Prova a prendere Ma tu clicchi È bellino sto gioco Daphne Eh Perciò se ci giochiamo Fai Oh Salta corri Prendi il pullman E mo' dobbiamo fare Spinci C'è un pulsante C'è un pulsante Dobbiamo premerlo Ho capito Mettete sul cubo Il cubo sul pulsante Esatto Il cubo sul pulsante In che si fa In velocità Eh Velocità Dobbiamo andare di velocità Sei pronta a prendermi di nuovo? Cate io ti prenderò sempre Grazie Amore della vita Vai Va corro Sì Vai Mi succhi la vita Eh Ok Spingi tu Spingi tu Vai spingi tu Ora Ora Mo' 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 Come si succhia Noo Mi sai succhiata Aspetta Non ero pronta Un attimo Aspetta Con calma Madonna mia C'è C'è Emanuella Un lavoro di risucchio Con calma Con calma Mo' Mo' Rifacciamo Atti Ok Eta Lasciami Ah è venuto Lore Scara Lore perché sei venuto Cosa ha scritto Cosa ha scritto Se si ricorda Se ti ricorda Noo Se ti Ciao Nuke Stiamo prendendo la testa Succhia quello Portalo con noi Ah vabbè Vabbè Caricalo Caricalo Poi devi venirmi a prendere Però Aspetta che lo metto In bilico Eh bra Eh 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 Venimi a prendere Ti ricordi di me Ti ricordi Ti ricordi Ellie Per favore Ricordi Sì Se non scrivi in chat Te non mi ricordo Ti prego ricordati Se non ti ricordi È un casino Lore mi ricordo Lo butto No Lo butto Ma tu mi devi stare a sentire Ti ho detto al ritornio Ti ho detto parli sempre con Lore Scara Che questo qua veramente C'ha Guarda Io ti direi di bannarlo anche nel mio canale Però Sì Sì ma tu ti ricordi Io mi ricordo Katia io mi ricordo di chi scrive Se no scrivete in chat Io come faccio a ricordarmi Eh Ma te lo ricordi Sì Me lo ricordo Ha scritto A me ha scritto Sicuro Allora Fammi spingere a me Sono io quella che spingi Spingi tu Damoni Sì Fermo dove sei Va bene lo stesso Però era bello Però aveva un senso Capisci Vedi che stiamo arrivando A una conclusione logica Eh No Sì Eh Sì Vai Tu Dai Bravissima Vai Ma ti ricordo Ciao raga Nonno Prendimi Vai Prendimi tu Katia Che Dai Katia però È lei raga Non so Ma non sono io Sei tu che Vai Vai Saltami in testa Devi prendere me Sei pronta Aspetta Mettila sulla pizzo Io ci stavo riuscendo Non ti preoccupare Tu mi devi soltanto recuperare Sì sì Ma tu recupera Sì sì Io ci stavo riuscendo Ciao Tripol Vai corri 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 Sali 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 Ce l'ho ce l'ho ce l'ho Non ti preoccupare Ce l'hai? Sì sì È inspicolato Torno Ok Sta frenando Poi Fia Dovete andare entrambe Sulla piattaforma Per forza Eh no Perché poi come torniamo Marco No no Ah l'ho capito Chi è quell'ore Eh bannalo Katia Bannalo Bannatelo Bannatelo Da per tutto Bannatelo Fidati Fidati Katia Ti dico di bannarlo Tu bannalo Io l'ho bannato Un quarto d'ora fa Perfetto E proprio lo dovete bannare Deve Deve sparire Dalla faccia di tu Un culo Ma addirittura Fidati Fidati Poi ti dico in privato Fidati Va bene Lo siamo pronti Eh Io vado Grazie Matti Sì Preso Bella Beppa No è già stato bannato Su tutti i canali Del mondo Spingilo un po' Spingilo Fidatemi Fidatemi Fidatelo Fidati Niente È proprio da bannare È tipo uno stalker Una roba del genere Oh no E allora Di quelli Proprio pesanti No no Allora no È quello che mi ha mandato Tutta la sua famiglia Mi ha contattato Tutta la sua famiglia No è allora no Per farlo sbannare Fidatemi Scusami Io da di poi ti dico in privato Ma io ho parlato con sua sorella Sua sorella mi ha scritto lo sbanni Il mio fratello No Non ce la faremo mai Corri 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 E allora Questa cosa comunque No perché serve la chiave Ah l'hai presa C'è No forse è tornata No Katia la chiave Spunta sai dove All'inizio Allora Aspetta È difficilissimo Dove me lo racconto Dove me lo racconto Sai meglio che babba Non si ricordava È vero Esatto esatto Non spingere il cubotto Dice Paco Devi buttare il cubo giù Sì per forza Devi buttare il cubo giù E non lo devo spingere Te l'ho succhiato fuori dalla piattaforma Ah bravo Paco Minchia ma perché lui è così intelligente Eh io lo potrei chiedere anche io a te eh Ciao ventitore Vai succhiami a tempo Ciao ventitore Vai succhiami a tempo Corri a prendere il treno Subito Io ti succhierò sempre Madonna mia Grazie mille Grazie Paco Gesù Minchia Paco ci hai salvato la vita Qua poteva essere Poteva durare molto di più Potevamo stare qui per sempre Come al solito Paco ha ragione Si chiama Pico Park Che gioco Eli Manca solo l'ultimo Tiziano ma noi non mangiamo stasera Eh Tiziano Allora È lui che deve preparare la cena Quindi Sei ancora a giocare Sei ancora a giocare Oh Eli Allora Eli sei tu quella con il vibratore Vai Io ti dico Premi il pulsante No Salta Ti ricordi di me andavamo all'elementare assieme Si Può essere No Katia l'ho capito Ah 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 è brava Si si Spingi da adesso Bravissima Ehm Spingimelo giù Sì però Sempre io devo venire con te Non sto capendo Yuga li preme E io premo Figurati Premo Sì che minchia sei E non lo so Mi hanno detto Yuga li premi E premo Però non Non dovete spingerlo giù Allora non lo spingiamo giù Vado Vado Sei lì cialda Ah sono io quella che adesso C'è il coso Va bene Vai Non lo spingiamo giù Amore allora Le ovette E fai il coso E allora dammelo nel piatto Amoni fai lo schiavo Vai Eeeh Tiziano perdonaci Poi che stiamo lavorando Tiziano Perdonaci Tiziano Ma è difficile la vita eh Lascia stare Quei difficili Eli Allora devi salire insieme a me Ehm E ma come fai No ma io lo devo mettere per forza Ah No Forse in testa a te Più spostato forse Katia No No In che senso E io come salto scusa E non Aspetta ma ce l'ho io sul culo Mannaggia Piglia di questo coso Ok Vedi Grazie Matti Vai Allora Che cosa hai concluso Proviamo Allora Salta Che paura Salta che ho salto sul cubo L'ho capito Salta su Vai Bravissima Prego Ok mo Prendo la chiave E poi andiamo via Che ci vuole Era molto facile Credo il culo al pulsante Fatto tutto Vedi Quando Uno usa l'ingegno Ce la fa Katia comunque Quando vuoi staccare Tu basta che mo dici No la cosa bella È che io devo andare a cena fuori Bellotta ha detto Vabbè ma tanto per le otto Finisci A che ora devi andare Alle otto Però non ti preoccupare Facciamo Spingi Facciamo così Finiamo questo Almeno questi quattro livelli Dai Io dove cazzo sto andando Aspetta se vieni con me a destra Magari per capire Non è chiaro Non è chiaro quello che stiamo facendo Attento Hai capito Hai capito Ok Perfetto Ok va bene va bene Ho capito Ho capito Mare Devi saltare Ok presa Mo possiamo scendere Grazie amare Aiuto Hai messo 100 grammi di riso Maria Katia Io veramente Che ha fatto Mi ha fatto un piatto di riso Mi ha messo 150 grammi Solo a me L'insalata di riso Quanto ne mangio Vabbè ma quella è buona Fa tendenza Che ore sono da voi Camilla Sono le 20 e 18 Tiziano pure io la voglio L'insalata di riso Ho fame Allora Aiuto Aspetta L'uccello mi c'è Ho sentito L'arrabamento Sì No 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 Non è l'arrabamento Ci stiamo incazzando Aviso Tiziano Ehi Dato che si rompe Ogni tanto Sta cazziando fortissimo No non è che Dato si rompe È che mi fa arrabbiare Io ci vado e lo copro Oh Eh si muove Si muove Si muove Si muove Si muove Si muove Va bene va bene va bene Va bene Sì sì Ok Non vedo Non vedo Katia mi Merda Dai era bella Katia Lo so era bella Però non tutte le cose belle Non puoi andare troppo avanti È Angry Bird Sì Però ce l'abbiamo fatta È l'ultimo No è il penultimo Pi pi ri pi Non andrà mai bene Come poco fa No mo ti faccio dire Che andrà meglio Andrà meglio Perché noi abbiamo La forza Dei Power Rangers Ok Senza la chiave Katia No no ce l'hai Ce l'hai la chiave La ce l'hai Io l'ho vista Hai il cuore delle Cate Vabbè Dai Eh sì sì C'era bisogno Ra Ma fa Per favore E allora Che vuol dire la frase Mi fai un sacco di frutta Cioè nel senso che ti faccio frutta No Ma Non lo so Ma che problemi ci sono ultimamente Perché Praticamente Se gli fai la banana Katia era ovvio Ma non te la volevo dire Però No scusa È che volevo pensare positivo Andiamo Scusa I boccali di birra girano oggi Oggi girano un po' I boccali di birra Eri saltami addosso Katia è l'amica intelligente Ecco Diteli Salta Tirelo Ma perché non potevi aspettare No Perché si muove il muro No Ha creato l'orescano 2 È tornato No Aiuto raga Ma questo è un incubo Saltami addosso Va bene Faccio io Niente Niente Ok Pippe Vai Thanks For play Thanks you Quale gioco Thanks you Quale gioco ti ringrazia Don't push E chi lo vi preme Maria Katia Ma vabbè Easy Signore 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 Tutto Tutto What the fear Guardo voglio che c'è un altro mondo No non penso Finito per sé No è finito tutto No è finito Easy Finito tutto 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 Brave Bravissime Eri È stato Fantastico Bravi Non solo abbiamo finito un gioco Ma ne abbiamo finiti addirittura due Siamo troppo pochi Due Troppo pochi E adesso Io però il bottone l'avrei premuto E adesso vuol dire che continueremo poi Quando vorrai con Ah Settimana prossima Mercoledì ragazzi Ci sta Come si chiama il gioco Escape Simulator Escape Simulator Eccolo qua Sì Ciao Ce l'abbiamo già Io devo solamente scaricarlo Ma il gioco è pronto Signori Per mercoledì prossimo E quindi mercoledì prossimo Io e Babba Insieme su Escape Simulator Che fra l'altro è a livelli Quindi chissà quante ce ne stanno Secondo me ce ne sono tantissimi Eh questo è vero Sì Secondo me ce ne sono veramente Un sacco Un sacco Un sacco Però dai Faremo una cosa alla volta Siamo state brave Abbiamo finito addirittura due Sì abbiamo finito Quindi Bellotta tra poco se ne va No mi batte Mi batte sicuro Perché sto in ritardissimo Vabbè sei già pronta Sei già bella Truccata No però Va bene lo stesso Va bene lo stesso Ti vai a sistemare Signori allora Io ringrazio come sempre La signorina Yucali Che mi raccomando È stato un piacere Mi sono divertita un sacco Io ringrazio te Ci siamo divertiti un sacco È bellissimo fare il mercoledì così Almeno spezzano la giornata È vero È la settimana in realtà E Spero stiano piacendo anche a voi Però penso di sì Dai siamo Dai li vedo bello Belli intrippati loro Quindi sì E quindi dai Posso dire Mi potete fare uno shout Alla signorina Sbarbalusi La trovate Ma è stato un quarezzino L'hanno già fatto Vai Vai su Yucali Per favore Amici Andate a chiederle Se vi saluta No ti prego No Senti stronza Tu adesso hai fatto Scrivetele Katia con la C No ma mi saluti sono Ti giuro Li vanno tutti Dovete chiederle Che numero di scarpe porta Ok Il 38 Ma che bene fotte Vuoi una foto dei miei piedi? Scrivetele Katia con la C Perché ancora? Vabbè niente E stanno continuando 034 Ciao vabbè Segui un ciao Nei miei confronti Ma che cosa vuol dire Segui E che tu sei un eseguibile Lui è un uomo antico Signori Io ti lascio A Katia Che penso vi saluterà Vabbè sì 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 Mo saluto con calma Grazie mille Per la compagnia Ciao bella Ciao Ciao Buona serata Ciao 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 E voilà Amici Io come al solito Saluto prima TikTok E poi saluto Twitch Con calma Amici di TikTok Io spero vi siate divertiti Se volete Il canale Twitch Su cui streammo tutti i giorni Di solito Tranne il mercoledì E il sabato Però adesso siamo in orario estivo E quindi sto streamando anche il mercoledì Sempre alle 13.45 Altrimenti Ci sono gli altri canali Ci sono due canali YouTube Oggi è uscito un video Sul canale principale Che si chiama Yucali Chan Altrimenti Tutte queste live Le potete trovare Sul canale secondario di YouTube Che si chiama Yucali Twitch Siamo su Instagram Yucali89 Siamo su TikTok Ma lo sapete Perché siete qui Grazie mille per la compagnia Vi voglio un sacco bene Spero vi siete divertiti Noi ci vediamo in live Con doppia live Su TikTok e Twitch In realtà Questo venerdì Quindi dopo domani Non pensate che Mo vi lascio Due alla settimana L'abbiamo fatta E quindi Me ne vado via No Perché io tornerò Venerdì Con un gioco Veramente carino Che spero vi piacerà Grazie mille per la compagnia Ma Vi voglio bene Passate una buona serata Io scappo a cena E saluto però Prima quelli di Twitch Quindi se volete Per i saluti Veramente finali Ci vediamo su Twitch Ciao amici Quanta musica Pixel Sento un sacco Di musica pixel Aspetta Come si spegne Raga Ho bloccato TikTok Oddio L'ho rotto L'ho rotto È finita È finita Non è vero Non l'ho bloccato Sono